Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Come avete letto dal titolo, dalla copertina del video, quello di cui andiamo a parlare oggi è come creare una landing page per le vostre pubblicità su Google, Facebook o Instagram. Prima di partire con il video però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche, mettere un bel like e commentate che mi aiuta a salire con l'algoritmo di YouTube. Ma facciamo partire la sigla e partiamo poi con il tutorial. Eccoci qua ragazzi. Allora intanto facciamo in modo di condividervi lo schermo di modo che potete seguire molto più facilmente il tutorial. Condividi. Benissimo eccoci qua. Quindi quello che noi andremo a fare da Canva Crea Progetto perché andiamo a creare una landing page. La landing page è una pagina di atterraggio per la vostra pubblicità. Quindi facciamo caso. Adesso selezioniamo sito web. Avete una promozione in particolare che avete sponsorizzato su Google e Facebook e se non siete capaci a farlo scrivetemi nei commenti. Comunque seguirò un tutorial per creare le pubblicità, le campagne pubblicitarie su queste piattaforme. Andiamo a creare una pagina di atterraggio per la vostra campagna pubblicitaria. Quindi mettiamo caso sempre come nei nostri esempi di avere un ristorante dove vogliamo sponsorizzare un nostro piatto piuttosto che un nostro menù particolare. Ok. Andiamo a prendere come sempre il nostro logo che abbiamo creato una volta precedente. Sostituiamo le scritte che ci sono nel tema questo qua che ho selezionato gratuito. Quindi l'ho selezionato e l'ho trascinato. Vado a creare. Mettiamo l'immagine di un piatto. Andiamo su elementi. Spaghetti. Marinara. Queste sono tutte pro. Vediamo se troviamo un'immagine fatta bene, gratuite da poter utilizzare. Ok, molto bene. Abbiamo messo il nostro logo. Adesso qua andiamo a centrarlo, posizionarlo in una maniera corretta. Andiamo a sponsorizzarlo. Anzi, le vostre offerte. Mettiamo che avete sponsorizzato su una campagna pubblicitaria su internet locale, quindi interente alla zona che frequentate dai vostri clienti, le vostre offerte. Andiamo a mettere quindi le nostre offerte. Ok. Mettiamo che ne sono? Spaghetti alla marinara. 3 euro. Sì, salsiccia e patatine. 12 euro. Che ne sono? Finta di pesce. 5 euro. Dolce a scelta. 5 euro. E caffè. E questo è il prezzo promozionali del vostro menu. Con le vostre offerte abbiamo creato questa piccola landing page di atterraggio e la andiamo a pubblicare, quindi andiamo su pubblica e dopodiché potete anche inserire un domenio gratuito. Potete guardare l'anteprima della vostra landing page, quindi come si vede da browser di un pc o come si vede da smartphone. Ok? Che si è dato anche dispositivo in modo. Chiudiamo l'anteprima. Pubblica sito web, quindi andiamo su un indirizzo gratuito. Andiamo a modificare il path, quindi il percorso dove deve essere, che ne so, ad menu settembre 2022. Qua mettiamo il testo descrittivo dell'offerta. A questo punto possiamo fare pubblica e il link che siamo andati a creare sarà il link a cui dovrà rimandare il vostro annuncio pubblicitario. Quindi il vostro annuncio pubblicitario dovrà andare a reindirizzare direttamente a questo link. Ok? Questo. Quindi se io lo faccio copia e lo metto nel braso dovrà essere raggiungibile. Aprimi questa tipologia di pagina. Questa cosa è molto comoda perché vi permette di creare, interrompiamo la condivisione, eccoci qua, di creare una pagina di atterraggio per il vostro annuncio pubblicitario che sia raggiungibile su internet. Perché una volta che voi avete un vostro annuncio pubblicitario non necessariamente l'utenza deve per forza finire sul vostro sito internet oppunque sul vostro sito internet ma su una pagina dedicata. Questa pagina è dedicata che si chiama appunto in gioco landing page e l'abbiamo appena creata con Canva in quattro e quattro appunto senza nessuna particolare conoscenza di programmazione o di grafica. Ok? Questo è stato un piccolo tutorial per spiegarvi come creare appunto una landing page per i vostri annunci pubblicitari. Quindi dove far atterrare l'utenza che visita, che vede il vostro annuncio pubblicitario una volta che ci clicca dove viene rimandata appunto su una landing page quindi la pagina di atterraggio che è quella che abbiamo appena creato con la piattaforma canva.com che è completamente gratuita. Si può anche fare l'abbonamento o pagamento ma potete anche tranquillamente se non avete grossa necessità utilizzare la versione gratuita come ho fatto io in questo momento. E niente, per questo tutorial è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito. Vi ricordo come sempre di iscriverti al canale, attivare la campanella per notifiche, mettere un bel like al video e commentate che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a guadagnare più soldini e quindi a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. Grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao raga!